E' chiuso, vado avanti, troverò un'altra calamita, stacco il moschettone schiacciando il grilletto e l'attacco più avanti, vi hanno forse detto che sono moschettoni intelligenti, cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho già quello rosso, a parte che non entra perché è chiuso, se io provo ad aprirlo non si apre neanche, ok? Perché l'altro è già aperto, quindi inizio prima da quello aperto, lo attacco dove c'è il segno rosso, spingo bene verso il segno rosso, quindi io vado a chiudere bene quello rosso, ora che lui è chiuso bene questo nero si toglie, ok? Venite ben avanti? Troverete dei giochi che si muovono con voi, fatti come questo qua, li troviamo mentre lui ha ancora le mani sul cavo, gli faccia male, ok? Quindi quando il cavo è libero, io vado a prendere i miei moschettoni, li attacco al cavo, dopodiché prendo la mia carrucola, come vi ho detto prima, due mani, spingo forte, dopodiché vado ad appoggiare questa levetta sul cavo, spingo verso il basso, così lei entra e non esce più. Ecco, una volta che ho attaccato tutto, mi siedo sull'imbrago, così sono tranquillo, so che mi regge, vado a mettere una mano sull'impugnatura arancione, l'altra mano sulla corda grigia, mi raccomando non mettere le mani sui cavi mentre andiamo avanti, se no ci facciamo male, queste corde qua non le tocco. Sì, vengo io? No. Non mi fanno passare sotto, sotto le due cose. Non mi fanno passare sotto, sotto le due cose. Non mi fanno passare sotto le due cose, non mi fanno passare sotto le due cose. mi devo far passare io e non possono mai essere entrambi si vuole al massimo un po' più così che l'altro non si può attaccare i moschettoni si attaccano quindi i moschettoni hanno due posizioni una posizione aperta e una posizione equita la posizione aperta è questa la posizione aperta 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 Grazie. Guardate sempre le tiglie per questo lavoro. Non c'è l'unione? 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 Vai, vieni, vieni. Vai. Ah! 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 Grande! 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 Quella! Grande! Grande! Cosa r Walken Questa è una posizione. Questa è una lega trasc 가� Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.